Siamo a Sibuliana, stiamo salendo in una necropoli sul monte, il terreno è pieno di cristalli di gesso e anche agilloso, ci sono colonie di orchidee selvatiche che crescono spontaneamente su gesto. Di fronte a noi abbiamo il mare mediterraneo dal lato della Libia. Oggi c'è un po' di foschia, non si vede bene. Sotto di noi è una bellissima vallata che va verso direzione Palermo. Siamo qua con Alfonso Doria che ci accompagna in questa escursione, ci parlerà di questa necropoli. Tardo romano antica. Tardo romano antica. Sotto dovevo fare sa stella. Alla prossima. Tutti questi sono cocci di terracotta, cercando bene, se ne trovano. Lai in fondo si vede Porto Empedogl. Ecco il mare di Siculiana. E' una bellissima località dal Neare, Siculiana Marina. Qua siamo di fronte all'Antico Maniero, all'Antico Maniero, all'Approdo si intravede il Porticciolo, il Porto di Siculiana e il Monte Caricatore che è qua. Sì. Poi dobbiamo scegliere questa zona di robocca Nonostante la montagna sia molto ripida, c'è un concorso che è quasi 4 scale. E' scavato direttamente, guarda come è curioso questo ingavo, non è un ingavo, è scavato. Siamo in cima alla collina. La collina che domina il trattorno, là in fondo si vede il porto di Sibuliana. Grazie. 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 Grazie.